Southampton Liverpool termina 1 a 2 il Liverpool vince contro il Southampton questa partita di ieri 17 maggio 2022 un solo gol per Southampton al tredicesimo del primo tempo a segnarla è stato Nathan Redmond al tredicesimo ripeto del primo tempo le risposte del Liverpool non tardano ad arrivare infatti Takumi Minamino la mette dentro al 27esimo del primo tempo e poi al secondo tempo Yoel Matip al sessantasettesimo punto di gioco partita davvero equilibrata e piuttosto piacevole nell'essere guardata apprezzata il Liverpool si impegna in maniera costante e attenta nonché attivua e ottiene questa straordinaria nonché magnifica vittoria c'è da giurarlo il Liverpool si impegna appena riesce ad vincere riesce ad stravincere e questo già è un dato di fatto a zona dire piuttosto positivo complimenti dunque al Liverpool il Southampton più impegnandosi però non trova la vittoria dal narratore italiano di YouTube Italia è tutto iscrivetevi se vi fa commentate ciao a tutti e una buona giornata